Lo stabilimento Tettuccio di Montecatini Terme è nuovamente violato dai ladri. Nella notte ad essere state prese di mira la sede degli Angeli del Bello, l'associazione che da anni cura con la sua attività di volontariato, il decoro e la bellezza della città e in particolare dello stabilimento termale, patrimonio UNESCO. Insieme a loro i ladri si sono introdotti all'interno del caffè storico attraverso la manomissione di una porta laterale. Una storia che negli ultimi mesi si è ripetuta con troppa frequenza. La stessa associazione era già stata vittima di visite da parte di ladri a fine dello scorso anno e all'inizio del 2024. Ma è tutto lo stabilimento ad essere un'isola sperduta e quindi facile preda di sbandati e malintenzionati. Lo scorso dicembre, solo per citare fatti più recenti, il negozio di abbigliamento Mari Boutique fu vittima di quattro furti, tutti nel giro di pochi giorni l'uno dall'altro. Ma almeno una quindicina ne furono compiuti nell'arco della stagione, anche in altre attività. Il tettuccio è aperto fino alle 12 e dal pomeriggio, ovviamente nelle ore notturne, salvo eventi programmati, è facile preda di malintenzionati, un edificio isolato dal resto dell'area urbana più frequentata, senza un sistema di allarme. In questo caso il danno maggiore lo hanno subito gli angeli del bello. I ladri, dopo aver mandato in frantumi la vetrata, hanno portato via oggetti vari, anche di valore, bigiotteria e oggetti in Sheffield. Ma soprattutto hanno devastato le porcellane. Al caffè storico i ladri hanno accaparrato soprattutto bottiglie di liquori e pochi soldi nelle casse. In tarda mattinata i carabinieri che si stanno occupando delle indagini hanno recuperato parte delle refurtive e sono state riconsegnate ai legittimi proprietari. Sembra che anche i responsabili o alcuni di loro siano stati rintracciati e arrestati. I ladri avrebbero agito nella notte con l'ausilio di due furgoni sui quali avrebbero caricato gli oggetti rubati. Nella fuga uno di questi avrebbe avuto un incidente e i carabinieri intervenuti sul posto per un controllo avrebbero scoperto che il materiale trasportato era frutto del furto a tettuccio. La rifurtiva del caffè storico, fra questa anche una macchina per produrre il ghiaccio, non è stata rinvenuta, probabilmente caricata nel secondo furgone, che al momento è riuscita a far perdere le sue tracce. La rifurtiva del caffè storico, fra questa anche una macchina per produrre il ghiaccio.